Preside, tra un paio di giorni sarà inaugurata questa nuova struttura che è veramente straordinaria, fatta bene, molto accogliente e davvero ricorda quelle biblioteche di un tempo dalle quali noi deriviamo. Certamente, però noi abbiamo cercato di coniugare il classico e il tecnologico perché ancora non si vedono ma sul tavolo ci saranno nove computer, uno per ogni tavolo collegati con il wifi e considera agli studenti non solo di cercare il libro cartaceo ma anche di fare ricerche attraverso internet per esempio. Niente, siamo contentissimi, è un progetto che è partito con il mio predecessore e però poi l'abbiamo rimodulato e reso quello che è attualmente. Quanto è costato Preside questo progetto? Diciamo 80.000 ma ancora dobbiamo farci conti bene. Però è veramente un dono, un regalo alla scuola, agli studenti ma anche alla città. Potrebbe essere fruibile ad esempio anche da altri ricercatori, studiosi provenienti magari da università? Assolutamente sì, anzi, noi siamo già in linea non solo con la Circolare 3 di Berlinguerre quando era ministro ma con la legge sulla buona scuola che chiede alle scuole di aprirsi il territorio. Una biblioteca poi è un patrimonio, non può essere un patrimonio esclusivo di alunni che frequentano questa scuola ma certamente si apre alla città anche per incontri culturali di un certo tipo che magari sono riservati a poche persone e loro si possono mettere qua. Preside, quanti libri conta, quanti volumi conta questa biblioteca? Mi dicono almeno 11.000 però aspettiamo di completare la catalogazione, vorremmo fare anche la catalogazione in digitale nella speranza che così anche la ricerca possa essere più celere ma non solo, abbiamo dei volumi che vanno toccati una sola volta per digitalizzarle e poi devono rimanere in donsi perché si potrebbero rovinare. La cosa interessante è che avete pensato anche alla lettura come un momento di relax, ci sono proprio delle poltroncine che danno la possibilità a quanti lo volessero di godersi insomma il proprio libro in tutto relax. Non di relax ma di lettura piacevole, di lettura comoda. Abbiamo dei poggialibri, dei tavolini su cui poggiare i libri raccolti e le poltroncine dove accomodarsi per operare la ricerca e la lettura del caso. Grazie.